Sì, signore. Le unità sono specializzate in obiettivi strategici, tecnologie avanzate o assassini. Per noi è semplice. Uccidi o muori. Sergente! Quadra pronta a partire tra 5 minuti! Le missioni sono assegnate appena disponibili. Completa gli obiettivi e ti promuoverò, così avrai il migliore equipaggiamento. Cominciamo dall'inizio. Ti serve un kit da battaglia. I kit sono sistemi indossabili e personalizzabili. Tecnologia avanzata. Per le operazioni militari più estreme. Sono molto potenti. Li salveranno la pelle in un sacco di occasioni. Questo è un kit guerrigliero modificato per la nostra unità. Fatti valere e avrai accesso ad altri kit con armamenti devastanti. Benvenuto nei Wolverine. Sempre in prima linea. È ora di darsi da fare. Scegli un kit. Salve soldato. Io sono QRM 5TR. Ufficiale responsabile dell'armeria. Hai bisogno di equipaggiamento? Devi soltanto dirmelo. Ti 영 scissors. Traもの l'armeria. Maggi you? Scegli un kit. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono l'unità da ricognizione modello IR-15. Se vuoi, chiama Miris. Sono il comandante dei Wraith. I Wraith sono specializzati negli omicidi. Il mio obiettivo primario è la sopravvivenza dei miei agenti operativi, garantendo allo stesso tempo l'eliminazione dei nostri nemici. I dati indicano che sei un soldato di valore. Ti trasformerò in una vera macchina di morte. Spero che non ti sfogga l'ironia della cosa. Buona permanenza nei Wraith. Fai attenzione e, per favore, massimizza il numero di vittime.